Se sfer Adana, zirveden selam, durmachio komi, patlamaya devam, yok bundan sondra size sigara filan, uccior yıldızlara müptezel bayan Se sfer Adana, zirveden selam, durmachio komi, patlamaya devam Facciamo questi, mi interessano quelle sulle mure, e qua, standardi Standardi mi interessa Perché molto probabilmente non recluteremo nessuno di questi Ok, inizia la battaglia E' ben difesa per avere Battene Oh, un colpettino in testa mi ha levato I miei sono tutti in ferrocito Lasciamo fare a loro Anzi, diamo una mano a lui Ti fa temi fare i fatticelli tuoi? Uccidetelo, magari Stanno cercando di prendere il posto di guardia Ah, era dei miei quelli Ah Nooo Hanno lo standardo da qualche parte Ok Facciamo il compo Ombra Una velocità mai vista Dov'è? Dov'è? Ok Ok Uno salvato Non salire Uno sta morendo No 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 Lui Ok Ok, un punto è conquistato E ricopriamo energia Oh lui Ok, te l'ho cancellato Non ho più peggio E... Stanno attaccando la piazza Non ce l'attaccate Finchete E' dappertutto E' sempre lui Il tornatore Che vince Ce n'era un altro In fin di vita Ok Dov'è forse E' schiattato il nostro Drago Non vedo questo Cioè L'ho preso i soldi Ok L'ho preso qualcuno per me Probabilmente Uno dei nostri Sto schiattando Un altro Sto schiattando E io Un teletrasporto qui Ok Ok Oh mio chi Quattresimo livello Questo è stato molto furbo Perché ha messo quelli più scarsi E vediamo se riusciamo a prenderlo No No lì Porfoddane Lui Ok Vediamo che abilità Ah è leggendario Banda Caratteristiche Banda di fanatici Beh 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 Stendardo Sì 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 Perfetto così Dai Recruta Vivo per servirti Ritirati Eh vabbè facciamo così Questo è simile al mio Può evocare i morti E sempre Ritorna Zugor Sempre Zugor Che vince Ok Vorrei fare Fargli fare esperienza pure agli altri Magari C'è un altro di 45esimo livello Restate Vi perderete la parte Sio sanguinosa Ehm Eh parecchio aglio Ok andiamo a salvare il nostro Sio sanguinosa Oh no no Non l'ho visto Vabbè Ok andiamo a salvare il nostro Ritirata Allora reclutiamo anche lui Vediamo prima le abilità Non ha grandi abilità Agile Beh solo perché è di 45esimo livello Classe avanzata assassino Ehm Recluta Ritirati Ok conquistiamo Devo far fuori Questi due Allora One Si C Teniamo il controllo Teniamo il controllo Per fuori No Vabbè No Ha ucciso uno dei miei Wow Aveva finito le vite Allora tu sei di quale livello? Vabbè ti recluto Vediamo un po' le abilità Vabbè vabbè No Bomba tutta Ora tu uccidami Presto Regente non mostrerà stessa pietà Eh non si vede niente Quanto è? Guarda 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 No no sposta Quello è davvero un animale Eh sì sono morto praticamente Vediamo se posso fare qualcosa Eh no Me li sta ammazzando Bravo Bro Si è passato di livello magari No lì No lì Dobbiamo farli preparare i nostri Ok Eh va bene Pure quello epico ho perso È stata una battaglia sanguinosa Un anello Più in là Ok Probbiamo a prendere Anche se Credo che ci le da un automatico Sì pure quella ci mancava Ok Eh soldatini Vediamo cosa ci aspetta qui dentro Il senza morte L'uomo che conquisterà tutto Mordor La vera battaglia si combatterà davanti alle mura di Baradur Che cos'è questa fortezza per te Azbrod Ma non sei male potremmo pensare di A reclutarti dai A reclutarti dai Ma non sei male potremmo pensare di Non sono che l'ombra di ciò che ero prima Ed è tutta colpa tua Non posso vivere così L'unico modo che ho per riavere il mio nome È ucciderti subito Cuga Recluta E resta il gommetto per me Potresti anche morire Cosa non Beh no no e dai cruta? Sì, sì. Bene, direi che abbiamo avuto abbastanza perdite Direi di inserire qualcuno nell'esercito Ah, non ci... no, ce le dà come perdite Abbiamo perso lui Lui, ok Ah, lui... non è morto Non è morto lui E inseriamo qualcuno Eppure è scarso Ordina Reimposta Qua c'è bisogno di uno con lo standardo, sì Schiera E una volta che ci troviamo apriamo le casse magari Ok, apriamo questa No, andiamo sempre ad esercito Ah, ci è uscita una missione, meno male Però andiamo sempre ad esercito Proteggi reggente E inventario Se vendiamo qualcosina E vabbè Dovrei vedere un po' tutto qua E... Questi sono potenziati Terrorizza cinque nemici, ok Proveremo a farlo Questo lo possiamo potenziare Vediamo se c'è qualcos'altro Terrorizza cinque nemici Eccide fortivamente un capitano Sì, vabbè Questi obiettivi Alcuni li trovo facili Ho usato un'arma a distanza Per uccidere un amico Quanto Potenza è piena, ok Vediamo se abbiamo qualcosina qui Ok 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 Sì ma non ho venduto Bella Qua non c'è da vendere niente Ok E qua c'è tutto il mondo Ok Ok Beh ci siamo rifatti un po' di soldini Una volta che siamo qui Guardiamo questa Se c'è Qualcos'altro di interessante Anche se sono un po' Stanco e provato Dalla battaglia In più abbiamo avuto perdite Beh anche questa sarebbe fattibile Però Dato le perdite E Un drake auto Ne abbiamo persi ben tre E avevano E più o meno erano livellati Un pochettino Sì Ok Dato che qui C'è questa missione Facciamo questa missione per adesso Il viaggio rapido Penso che sia Migliore fare questo Finalmente una vera sfida Avanti Liberate il Grog Ora si va a fare la pistolina Anche c'è un po' di dolore Sì Sì vabbè Meglio Intanto che guardo Faccio altro Su che ce la fai dai E uno e due E tre Ok Arrivato al livello 47 Direi di Di andare qui Viaggia rapido Sì Sì Sì